Ed eccoci qua sul viaggio verso Nakhon Salan, è impressionante come trasportano le cose, questo è troppo bello, cioè la macchina è piena, piena, e sul tetto hanno messo le bottiglie, ma piena, piena, mamma mia, piena di tutto per fare il trasporto per le vivite, anche questa è la Thailandia, nel nord della Thailandia siamo a 50 km da Nakhon Salan dove andremo in mezzo ai campi dei fiori di rito, vedendo cosa possiamo filmare oggi, veniamo oggi a una GoPro, vediamo cosa abbiniamo, lei è già su in macchina, io invece, adesso mi spiego, sono a 150 km da dove siamo, ed eccoci arrivati dove volevo arrivare, e adesso partiamo con i droni e siamo proprio in un centro, in un villaggio di pescatori, dove fanno, qui fanno maggiormente i fiori, e poi da qua si arriva all'altra spiaggia, poi c'è questa via, prende anche la macchina, è un po' più complicata, sono posti che normalmente un turista proprio non si è perso, questa è la verità, e questo è proprio casa dei parenti, mia moglie, una vita di gente che poi pesca, vendono quello che è il pesce, e qui sono posti molto belli, e qua fanno i fiori, sono i fiori che poi vengono sulle strade, che creano, e poi... Do-crac, 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 si chiama, ok, do-crac, lui è il fratello di mia moglie, lei è la mamma, ed eccoci, adesso andiamo a filmare, col droni vediamo un attimino. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. come... 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 a tutti. come... 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 si... come... 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 o vor si provà il balin e gira e rigira da chi e pirla e pirlona da là con la grappa sul busin o non fa come un pelin leggi che ti infidi la vita leggi che ti speci la mort stanotte a quinti su la mia storia stanotte in dare il tuo confort questo video mi sa che sia un po' confuso sta filmando mia moglie io ho appena finito volare qui vedrò un video ho trovate un video mi sa che diventa confuso questo video questo è un figlio no? è il figlio? no la famiglia la famiglia sembrano comunque voi da quando fai io devo andare con la scuola ah sì ok e adesso abbiamo appena finito con ciò volevo fare la notte ma c'è solo un cavo con ciò vediamo quando torneremo indietro verso qua è il figlio dottorando magari inserate facciamo la notte qua però è pieno di moschini mamma mia qua bisogna veramente armarsi di cremi di moschini io vorrei ancora volare tutte le batterie ma mi stanno massacrando ah voglio questo cos'è? un po' di pesci shooting questa è una canna per cioè per sparare i pesci un fucile wow ah ok per prendere i pesci mamma mia con la corda e poi dopo la fila wow veramente ingegnoso top top cool anche che bella moto che hanno un CV GV250 è ben tenuto con quel fucile lì loro vanno dentro qua e poi sparano al pesce con la lancia che poi riescono a prendere il pesce c'è un fucile da pesca qua noi stiamo caricando le nostre cose e ormai il casino qua c'è sempre però posti stupendi che devo proprio dire ed ecco usciamo dal villaggio ci siamo passati col drone prima e ritorniamo in direzione Campenpet qui magari vedremo la sera qua i tramonti non è servito le albo i tramonti il problema grosso sono i moschini non so lo scaghi moschini non è servito oggi ma hanno tartassato fanno paura i moschini che ci sono e poi immaginate che bellezza ecco qua è una parte che si vede manca l'acqua qui a tutto il villaggio di solito c'è l'acqua il chiume l'avete visto il drone qua sono chilometri e chilometri io ho 9 chilometri per uscire da questi campi di riso e questo è uno cioè 9 chilometri per uscire da là dietro e sta arrivando il riso impressionante e dopo che cominciano io non ci credevo alle 5-6 di mattina sono svegli anche qui che le galline cominciano alle 3 non alle 5 qua appare il primo chi 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 ecco mia moglie che sta parlando ci siamo seduti qua davanti io credo come sempre magari avevo due caschi parliamo con il signore che ha queste cose un paio di giorni fa io ho preso i pantaloni una maglietta qua molto bella ma sempre che avevo pagato non mi ricordo prima non mi ricordo 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 l'altro giorno abbiamo volato da questo mercato qua e lui stesso sta dicendo di fare altri tempi di andare a chiedere perché veramente in queste zone qua poca gente viene per pubblicità quindi tutti vanno come sempre vanno pucche vanno dall'altra parte della Thailandia mentre chi vuole anche vedere un po' di cultura vuole vedere qualcosa molto bello poi ecco un esempio un pantalone qua può costare 5,50 Mancocco 4,50 è anche vero che sono 400 km Mancocco può costare meno però a qualche legno di sera è freddo e di giorno oggi avevamo 38 gradi e di sera 17 cioè di sera di notte 17 questo è il mercato che non vanno ma tutti gentili e contenti che si vuole con il drone e che si vuole ecco ecco pensavo che uscì qualcuno che ho filmato con la videota ma quello è un altro video o magari lo viderò con questo qui vediamo la strada di Tosca che sono questi fino al 12 per oggi fino al 12 siamo in città questo panorama detto carne male detto festa del paese però questo c'è tutti i weekend questo è proprio dove tutti i giorni arrivano e vengono in questo parola e noi ci siamo fermati a mangiare le noodle vediamo un attimino però è proprio abbastanza appollato e mi sembra anche buono vediamo un attimino quello che fa e lì è quello che mangiamo ok e come sempre ci sono tutte le vietanze traiglandesi con tutti i misculli qui appunto è questo un paradiso di luci impressionante è il camp M.T vediamo qui